Ciao ragazzi, io sono Marco ed in questo nuovo video vi porterò con me al Managua Festival che si è tenuto questo sabato ed era all'interno del Terminal Tree Festival che durava ben 4 giorni, situato nell'area Malpensa, quindi siamo alle porte di Milano è andato avanti dalle 3 di pomeriggio fino alle 3 di notte, quindi per ben 12 ore Siamo partiti da Firenze, abbiamo caricato due persone tramite BlaBlaCar che hanno fatto il viaggio con noi fino a Bologna abbiamo pranzato qui al volo, dei panini, ma per fortuna non siamo andati nel lato grill come sempre e adesso siamo diretti a Milano Arriviamo all'hotel, distante circa 15 minuti dal festival, facciamo il check-in ed entriamo nella nostra camera Tipica camera di un hotel 4 stelle e personalmente le uniche cose che guardo è che ci sia un letto comodo e pulito e un bagno decente per farsi una doccia, tutto il resto veramente tanto non si utilizza Arrivati al festival ci hanno accolto direttamente nell'ingresso backstage dove poco fuori c'era un parcheggio privato e la prima cosa che abbiamo fatto è stata esplorare l'intero festival visto che ancora c'erano poche persone e c'era la luce del sole quindi per poter fare dei buoni video e far vedere a voi come era strutturato il tutto Partiamo dal main stage che era parzialmente a coperto, cioè la prima parte sicuramente a coperto con la capienza di diverse migliaia di persone e questo è stato sicuramente un punto importante perché poi la sera ad un certo punto è venuto a piovere e quello era l'unico stage con un'ampia copertura Ai fianchi di esso erano presenti due gonfiabili a forma di elefante coloratissimi che davano comunque un aspetto un po' più giocoso e gioioso e poi leggermente più avanti un aereo sempre gonfiabile con il logo Terminal Tree Festival Oltre al main stage erano presenti ben altri tre stage ognuno dedicato a una collaborazione con uno staff che collaborava appunto con il festival Ed oltre a suonare i resident dei singoli staff all'interno di questi stage che possiamo dire secondari per quanto riguarda le dimensioni suonavano anche alcuni artisti che erano anche nel main stage Infatti come vedrete dopo Dimmi ci ha suonato sia nel DDL stage che nel main stage Per quanto riguarda il cibo erano presenti diversi track food e devo dire anche abbastanza assortiti C'erano arrosticini, pizze, panini di tutti i tipi, patatine, piadine, frutta e una bella distesa di panchine e tavoli davanti in modo da poter far mangiare in comodità tutte le persone che avessero voluto appunto cenare all'interno del festival I bar erano presenti distribuiti all'interno di diverse zone del festival Quindi devo dire che secondo me era gestita abbastanza bene questa cosa Ovviamente erano bar Red Bull e mi sembra che nessuno si sia lamentato per code o qualcosa del genere Tornando al main stage c'erano vari pannelli LED Wall dietro i DJ che devo dire erano ben fatti L'unica cosa è che secondo me mancavano un po' di luci per quanto riguarda la pista Durante la notte quando era comunque buio in alcuni momenti non veniva ben illuminata Quello secondo me è un upgrade che il prossimo anno sicuramente faranno Mentre nelle zone laterali della pista c'erano due aree VIP rialzate Quindi all'altezza del palco dello stage dove i DJ suonavano Che avevano una vista diretta proprio sul palco E secondo me erano ben posizionate e ben fatte Per quanto riguarda il backstage che era dietro il palco fatto con varie tende C'era un bar open bar quindi sicuramente un servizio premium che non tanti festival offrono Ed in più tavolini con poltrone, frutta e cibo in modo da coccolare gli artisti prima e dopo la loro esibizione All'interno del format Manawa che si tiene tutti i mesi all'interno di un club E poi porta appunto al festival che è quello di cui vi sto parlando E' sempre presente l'animazione C'erano delle ballerine completamente dipinte addosso Sicuramente belle da vedere Che ballavano direttamente sul palco di fianco agli artisti Personaggi con trampoli e maschere enormi Che giravano invece in mezzo alle persone nella pista E per concludere la sera vari artisti che giocavano col fuoco e anche questi sul palco Ed infine c'era una truccatrice, un servizio sicuramente amatissimo dalle ragazze Che appunto andava a truccare i loro visi, andare a mettere dei brillantini per renderle ancora più uniche Se ancora non mi seguite fatelo che a voi non costa niente ma a me da una grossa mano E ora torniamo al video Per quanto riguarda gli artisti è una app che a me è piaciuta molto Anche perché molti di questi DJ comunque già li conoscevo abbastanza bene Il primo che ho sentito quando siamo appena entrati era Prank Che aveva un set time piuttosto presto perché poi sarebbe volato in Inghilterra Dove aveva una seconda data durante la sera Dopo di loro Yaya e Maoni che era la prima volta che sentivo in Back to Back E hanno fatto un DJ set sicuramente giusto per l'orario in cui suonavano Dopo di loro c'è stata Manly Ribe che era la prima volta che sentivo se non erro Set molto energico che è piaciuto tantissimo al pubblico Poi passiamo a Detlef che non ascoltavo da veramente tantissimi anni Lui è sempre un pazzo scatenato, fa ridere tantissimo e musica sempre super apprezzata Poi ci siamo spostati con Dimmish nel DDL stage dove appunto lui suonava il suo primo DJ set Ma la sfortuna vuole che in quel momento stava piovendo Quindi lo stage al coperto non aveva una grossa capacità di persone Ma devo dire che si sono divertiti tutti tantissimo E soprattutto si sono sentite quelle vibes che si provano nel club Dove il pubblico è veramente vicino al DJ Cosa che ovviamente non succede nei festival, nei main stage Perché si è sempre molto distanti C'è sempre molta distanza tra l'artista e il pubblico E subito dopo aver finito nel DDL stage Siamo andati nel main stage dove ha suonato in Back to Back con della Swing Era la seconda volta che suonavano insieme Sono sicuramente molto affiatati E quindi probabilmente ci sarà anche una terza volta Dopo di loro è stata l'ora di Quartero Che non sentivo anche lui da diversi anni probabilmente Ha fatto un DJ set fantastico, nulla da dire Ed infine i stand-ups che è ben tre settimane di FINA che lo ascolto Settimana scorsa eravamo al Sonar L'ho ascoltato per ben tre volte La settimana prima ad Errotown a Campovolo E anche lì lo avevo sentito È uno in assoluto dei miei preferiti in questo momento Quindi non posso dare giudizi perché sono veramente di parte Infine poi il closing con Santi Sansone in Back to Back con il Universo Feedback di questo festival sicuramente positivo Perché bisogna considerare che i prezzi erano veramente irrisori Si partiva da 15 euro poi si passava a 20 ed infine a 25 Che comunque per un festival è veramente veramente poco I servizi erano presenti tutti in loco Non ci sono state code, non ci sono state grosse lamentele Io l'unica pecca che ho trovato è sulle luci Io avrei messo delle luci in più come ho detto in precedenza Che sicuramente metteranno il prossimo anno E poi per il resto è andato tutto alla grande Ovviamente se non ci fosse stata la pioggia sarebbe stata meglio Perché ci sarebbero stati meno problemi negli altri stage Però purtroppo quello non ci possiamo fare niente E noi ci vediamo settimana prossima con un altro video E questa volta andrò a parlare del Monegros E questa volta andrò a parlare del Monegros E questa volta andrò a parlare del Monegros